Questa è la nuova piazza Chiarino. Da poco sono terminati i lavori di restyling completo della piazza che ha voluto il comune, così come in altre piazze aquilane. Cambia un po' la pavimentazione rispetto a quello che è stato poi per il corso, è leggermente più scura, tendente al grigio, con degli spazi bianchi, nuovi erredi, nuova illuminazione pubblica. Domani tornerà completamente fruibile, è ancora delimitata dal cantiere, infatti si stanno davvero facendo gli ultimi ritocchi. Un altro pezzo del centro che torna a vivere. Piazza Chiarino è pronta per essere restituita agli aquilani. Dopo il restyling completo voluto dal comune, la piazza tornerà fruibile ai cittadini da domani, quando ci sarà la cerimonia di inaugurazione. I lavori sono terminati già da qualche giorno e sono stati finanziati con le risorse del fondo complementare del PNRR. La piazza sarà senza auto, c'è una grande area pedonale con panchine e vasi ad arricchire una piazza dove affacciano dei palazzi signorili da poco restituite ai proprietari, dopo la ristrutturazione. Il colore scelto è tendente al grigio, con pietra del Salento, la stessa usata per la riqualificazione di piazza del teatro. I lavori sono iniziati lo scorso ottobre ed affidati alla ditta MD Leather Burning, costo dell'intervento circa 700 mila euro. Il cantiere a dicembre subì un'interruzione per alcuni ritrovamenti durante gli scavi, sepolture senza corredo e reperti di pietre e laterizi provenienti dalla chiesa che non esiste più, di San Giustino e Martino. Riemersa anche una statua bianca raffigurante un guerriero. Il comune, con le risorse del fondo complementare, ha inteso riqualificare molti scorci e piazze cittadine, come appunto Piazza del Teatro e Piazza Palazzo, i cui lavori già sono iniziati, tutto questo mentre dovrà essere restituita a breve Piazza Duomo e anche tutto il corso ripavimentato. Un impatto diverso da ciò che era prima e che divide gli aquilani, ma senza dubbio Piazza Chiarino è bella ed elegante oggi. La speranza è che i cittadini stessi e soprattutto i giovani, perché quella è una delle piazze della Movida, sappiano averne cura.